Crescono i numeri, cresce la partecipazione sia di aziende che di candidati, speriamo che diventi una manifestazione stabile perché aiuta davvero i giovani a orientarsi nel mondo del lavoro. Ci sono concrete, non è una promessa di lavoro, è un modo per orientarsi e cominciare a capire come funziona il mondo del lavoro. Diciamo che ha tre anime, quella aziendale, quella dei candidati e quella dell'education, il mondo della scuola. Quindi queste sono le tre grosse anime che cerchiamo di far dialogare fra loro proprio per avere un miglior incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro. Oltre 400 iscritti ai seminari, siamo molto contenti perché comunque sono un momento formativo per i giovani in cui imparare nuovi strumenti dai social media o conciliazione del tempo famiglia e tempo lavoro come il seminario sulle mamme di ieri. Quindi argomenti veramente...